Allora, quindi volevo sapere, dall'alto la terra è rotonda? Allora, io dovrei dire sinceramente che è tetraedrica, però non lo possiamo dire ad alta voce. Ah, è una nuova versione questa ancora? Sì, sì, è una nuova versione tetraedrica, ma questi qua della terra piatta è tutto un complotto, vogliono farci credere che sia piatta, in realtà è tetraedrica. Bravissima, bravissima. Grazie.